Musica Abbiamo dei monti che sono estremamente accessibili a tutti è per questo che questa opera che viene presentata oggi che presenta una quarantina di itinerari sia nell'altopiano di Asiago sia nel Grappa permette a tutti di venire nei nostri luoghi, venire nelle nostre montagne Montagne accessibili a tutti, ai disabili, ai non vedenti ma anche agli anziani, ai convalescenti o alle famiglie con bambini in passeggino godere insomma di un territorio montano straordinario fruire delle bellezze dell'altopiano di Asiago e del massiccio del Grappa di una natura capace di regalare emozioni ed energie sempre nuove un obiettivo possibile grazie al meticoloso lavoro di Dario Favrine particolarmente sensibile alle tematiche della disabilità anni fa infatti ha rischiato di finire su una sedia a rotelle 36 itinerari per handbike, 53 per carrozzine, 25 per nordic walking si trovano tutti i percorsi per handbike, sapete le biciclette a mano le più favorite sull'altopiano soprattutto il Grappa un po' meno dopo si trovano i percorsi per le carrozzine normali per le carrozzine motorizzate, quelle elettriche e anche per la easy trekking che è quel tipo di carrozzina monoruota grazie a tutti grazie a tutti